Ma l'aria la cambiamo? Anche tu sei preoccupato per l'aria di Brescia? In effetti la cattiva qualità dell'aria ha gravi conseguenze sulla nostra salute e anche sul nostro portafoglio. I principali inquinanti? PM10, PM2,5, biossidi di azoto e di zolfo, monossido di carbonio, ozono, ammoniaca. Gli esperti confermono che per esempio il PM10 può provocare gravi danni come patologie dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, malattie ricorrenti e persino tumori. Tutto questo causa conseguenti aumenti di ricoveri e purtroppo anche un aumento di mortalità, oltre che un forte incremento delle spese sanitarie. Forse ti stai chiedendo, ed io cosa posso farci? Se andiamo a vedere quali sono i principali responsabili delle missioni primarie a Brescia, troviamo ad esempio per il PM10 il trasporto su strada, la combustione non industriale e l'industria. Per gli NOx, il trasporto su strada, l'incenerimento dei rifiuti e l'industria. Anche il settore agricolo, soprattutto con gli allevamenti intensivi, incide significativamente dopo le emissioni di ammoniaca nelle direzioni. Automobili, riscaldamento, cibo, industria e rifiuti. Cosa può fare ciascuno di noi per ridurre le emissioni causate da queste attività? Per i trasporti, il problema è soprattutto dovuto alle auto private. Per ridurre le emissioni, bisogna quindi usare di più i mezzi pubblici e la bicicletta e andare a piedi. Potremo anche abbassare la velocità in autostrada e tangenziale. La combustione non industriale avviene negli impianti di riscaldamento e di produzione di energia. Per abbassare le emissioni dovremo quindi spegnere stufe e cammini, se non hanno altissima efficienza, e usare caldoie efficienti. Abbassare la temperatura a 20 gradi e effettivi più pesanti. Migliorare l'efficienza energetica degli edifici. Ci sono anche gli incentivi statali. Quanto alle industrie, la situazione potrebbe migliorare con normative più stringenti in ambito ambientale, meno rifiuti e meglio separati, incentivi alla decarbonizzazione, più attenzione da parte delle imprese ad alligerire il loro impatto ambientale. Infine l'ultima grande causa di inquinamento, l'agricoltura. Per ridurre il suo impatto basterebbe mangiare meno carne e prodotti di origine animale, consumare alimenti preferibilmente a chilometri zero, meglio ancora a 6,12. Se avete fatto caso, molte delle cose che migliorano la qualità dell'aria portano benefici di rete a te in termini di salute, ma anche risparmio di denaro. Se vogliamo cambiare l'aria di Brescia, però, dobbiamo farlo tutti insieme. Diamo tutti buon esempio.